Salve a tutti, oggi vi voglio parlare di questo punto facilissimo, si chiama punto traforato in diagonale molto esplicativo il nome, perché effettivamente si tratta di formare dei trafori che vanno ad inanellarsi in diagonale è un punto veramente facile da realizzare, si articola su soli 4 ferri e su un numero di maglie multiple di 4 più 2 non è purtroppo reversibile, però il suo rovescio è molto ordinato e si può utilizzare non proprio per tutto perché rimane molto rigido come punto quindi lo sconsiglio per le sciarpe, scialli e scaldacolli, magari per le scialli ancora ancora però poi può essere utilizzato comunque per maglioni, capotti, capottini, cardigan oppure nel campo dell'arredamento per tovaglie, stuoie, coperte per bimbi così come coperte per adulti, cuscini, insomma un po' per tutto può essere realizzato con qualunque tipo di filato e questo consente di realizzare sia capi estivi che invernali e ovviamente con i ferri in proporzione una cosa che vi voglio far notare è che adesso non si nota più tantissimo perché l'ho aggiustata io col ferro da stiro è che questo punto tende ad inclinarsi in diagonale quindi quando lo finirete potrebbe avere questo aspetto romboidale poi però una volta che gli date un colpo di ferro da stiro e lo rimettete in sesto voi diventa nuovamente perfettamente perpendicolare quindi il colpo di ferro da stiro vi sarà necessario farlo lo vedete anche già dal campioncino che ha fatto sta già tendendo ad inclinare, ad essere più lungo su questo lato che su questo allora, come dicevo, ve lo faccio vedere un attimo da vicino è necessario per questo punto un numero di maglie multiple di 4 più 2 e andiamo a lavorare su 4 ferri vediamo come lavorarli allora il primo ferro è sul diritto del lavoro e si fa in questo modo abbiamo una maglia a diritto e poi un modulo che va ripetuto sino all'ultima maglia quindi ce ne dovrà avanzare solo una formato da un gettato 4 diritti 1 2 3 4 di questi 4 diritti che abbiamo appena fatto il primo lo preleviamo con il ferro di sinistra e lo andiamo ad accavallare mi è caduta una coppia di ferri lo andiamo ad accavallare sui 3 diritti che lo seguono e ripetiamo il modulo perché è tutto qui allora un gettato 4 diritti 1 2 3 4 di cui poi prendiamo il primo e lo accavalliamo sui 3 che seguono e ripetiamo il modulo un gettato 4 diritti 1 2 3 4 e accavalliamo il primo dei 4 diritti sugli altri 3 ora non so perché questo faccio il capriccio non voglio ah eccolo e poi arrivati all'ultima maglia dopo aver ripetuto più volte il modulo lavoriamo un diritto il secondo ferro il secondo ferro va svolto tutto a rovescio così come il quarto lo vedremo poi ora il terzo ferro prevede lo slittamento del traforo in modo da formare la diagonale come si fa si lavorano 3 maglie a diritto e poi abbiamo un modulo da ripetere sino alle ultime 3 maglie quindi queste 3 qui devono avanzarci ed è formato questo modulo come il precedente come nel primo ferro da un gettato 4 diritti 1 2 3 4 e poi accavallando sopra e accavallando il primo dei 4 diritti se riuscisse a prenderlo sui 3 che lo seguono e di nuovo un gettato 4 diritti 1 2 3 4 e accavallo il primo sui 3 che seguono e questo è il modulo che dobbiamo ripetere più volte sino alla fine del ferro dove troveremo ad aspettarci 3 maglie che andranno lavorate tutte e 3 a diritto 1 2 e 3 siamo ora al quarto e ultimo ferro e lo lavoriamo tutto a rovescio e questo è tutto ciò che occorre fare per formare il nostro traforo in diagonale un punto come abbiamo visto facilissimo ma molto gradevole e molto utile io spero che il tutorial di oggi sia stato di vostro gradimento se così è stato e aveste piacere potete lasciare un like e un commento e io ve ne sono grato poi se siete qui per la prima volta e vi va ad iscrivervi al canale siete benvenuti mi raccomando cliccate anche sull'icona delle notifiche così resterete sempre aggiornati su ogni cosa che pubblicherò video o post o quant'altro io vi ringrazio per l'attenzione e per la vostra compagnia che è veramente preziosissima e mi fa molto piacere e vi auguro tante belle cose ciao 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 ciao